Najat El-Hashmi A chiederselo è la giovane figlia prediletta, che ormai diventata donna, decide di ripercorrere la storia di Mimun per cercare di venire a patti con l'influenza che l'ingombrante figura paterna ha esercitato sulla sua vita. Un racconto vivido e appassionato, che alternando episodi brutali a momenti di grande tenerezza, affronta con coraggio e un pizzico di ironia ogni aspetto di un rapporto difficile che ha profondamente segnato le vite dei protagonisti. Grazie